L'esperienza di 10 giovani start-upper catanesi che stanno sviluppando i propri progetti per diventare imprenditori. Alcuni dei quali sono riusciti a farsi finanziare, altri si sono aggiudicati un assegno di ricerca da 25.000 euro, altri ancora credono e investono in altre start-up o scommettono su energia, risparmio energetico e riuso dei materiali. Sono loro i protagonisti di Orienta Giovani 2012, l'appuntamento di Confindustria dedicato all'orientamento e che stamattina hanno parlato nell'auditorium delle Ciminiere a 1.200 studenti delle scuole catanesi che hanno partecipato alla giornata regionale dedicata all'orientamento, organizzata dai giovani imprenditori di Confindustria Sicilia e Catania. Un appuntamento annuale che oggi è stato l'occasione per presentare anche le due nuove iniziative dei giovani di Confindustria Sicilia, rivolte ai ragazzi siciliani delle scuole superiori. Il concorso nazionale La tua idea d'impresa, in cui gli studenti raccontano attraverso video le loro idee e il progetto di orientamento basato sui fumetti Miss Bussola. Confindustria incontra i giovani per parlare di futuro, ma soprattutto di presente. Sì, Confindustria e Confindustria giovani vanno dai giovani. Io lo dico sempre, i giovani di Confindustria vanno dai giovani. Stiamo dedicando molte energie. Catania è diventata Startup City a livello nazionale. Abbiamo portato un programma e un progetto che prima si chiamava Imprendi Catania, poi io l'ho sposato dopo che Antonio Perdighizzi l'ha iniziato a Catania e l'ha fatto diventare Imprendi Sicilia e ora il nostro presidente Jacopo Amorelli ha fatto Imprendi Italia. È uno sportello che noi dedichiamo ai giovani che vogliono fare impresa. Queste sono tantissime attività che stiamo facendo. Ora orienta i giovani. Il giovane una volta diplomato si trova davanti varie strade. E lì se sbaglia perde tanti anni. E perdere tanti anni in questo momento, specialmente in questo momento di crisi, per i giovani è pericolosissimo. Quindi la scelta deve essere proprio quella che hai dentro il cuore. E noi stiamo cercando proprio di far aprire questo cassetto dove c'è il sogno di ogni giovane e fargli capire che magari è possibile fare impresa. Chi si vuole iscrivere all'università può andare all'università, cioè fargli capire cosa realmente hanno dentro il cuore e dargli poi le possibilità e le armi per far realizzare il loro sogno. Sono tantissimi gli studenti che oggi partecipano a questa giornata e che assistono a vere e proprie testimonianze. Sì, 1200 ragazzi a cui oggi raccontiamo 10 storie di altri ragazzi come loro che sono riusciti, seguendo il loro sogno, a fare impresa. Raccontiamo però loro anche come si può continuare il percorso degli studi scendendo in maniera consapevole o come si può cercare lavoro. E orienta giovani la giornata dei giovani di Confindustria Sicilia che quest'anno arriva alla 19esima edizione nazionale ed è il momento in cui raccontiamo appunto ai giovani tutte le cose che noi sappiamo per aiutarli a scegliere meglio. Quali sono alcune delle storie più incredibili che oggi stanno raccontando? Le più belle sono, spesso quando si parla di energia e ambiente si pensa soltanto all'eolico, al fotovoltaico oggi vengono raccontate invece anche storie di riuso dei materiali materiali di scarto che possono diventare oggetti d'arte ecco, vogliamo raccontare ai ragazzi come la creatività si può applicare anche a questo settore delle energie e dell'ambiente. Durante la manifestazione sono stati premiati anche la professoressa Maria De Maria e l'azienda Cavagrande S.P.A. rispettivamente per l'impegno nei confronti dei giovani e per la diffusione della cultura della sostenibilità.